ciao bimbi oggi vi faccio vedere come decorare un bellissimo uovo di pasqua allora per farlo ci serve della pasta colorata di varie forme poi della colla stick o la bimbi e un pezzo di carta con disegnato un uovo di pasqua e con delle righe sopra ora mettiamo la colla sulle righe del nostro uovo bravissima mia e poi ci appiccichiamo la pasta e ecco il nostro uovo finito buon divertimento ciao bimbi